Il gelo lasciato da chi... Stiamo vivendo una stagione difficile, un periodo molto freddo a livello emozionale a causa dell'emergenza Covid-19 durante la quale molte persone hanno perso la vita ed intere famiglie hanno visto il loro destino mutare per sempre. Queste sono le sensazioni del cantante poliziotto palermitano Revman che presta servizio alla questura di Milano. Ancora una volta ha voluto trasformare in musica le sue emozioni. Il gelo è online nel mio nuovo singolo intitolato Il gelo. Il titolo nasce a seguito dell'esperienza di questo ultimo anno, un periodo molto freddo a livello emozionale, dove a causa dell'emergenza Covid-19 molte persone hanno perso la vita ed intere famiglie hanno visto il loro destino mutare per sempre. È stato come vivere in una zona fredda e gelata, con temperature emozionali e climatiche scese sotto il punto di congelamento. Un freddo sentito nel corpo e nell'anima che ha lasciato un vuoto dentro, che ha disperso il calore umano generato dalla vicinanza e dalla condivisione degli affetti. Il gelo parla in maniera sentita e rispettosa di chi non c'è più, ma anche di chi è rimasto con delle ferite emotive, di chi intende partire da questi sentimenti per lanciare un messaggio di speranza e salvezza. Sottotero ogni corpo se ne accorge, amore ed altruismo in questo buio sono torce, illumina il cammino, progetta il tuo destino.